Il macio piccio degli Aquilani. Si concretizza sempre di più il progetto ambizioso dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio, quello di rendere la valle della Madonna da Pari la via dei sentieri e dei santuari più importante d'Abruzzo. Con l'inaugurazione dell'area di sosta attrezzata in zona Belvedere-Acqua Santa, il rifugio Lauri e il completamento del sentiero, lo scorcio che si apre allo sguardo nelle gole dei massicci del Gran Sasso è uno tra i più suggestivi del comprensorio. Bisogna rilanciare e sviluppare progetti di turismo naturalistico e religioso, ha spiegato il presidente degli usi civici di Paganica, Fernando Galletti. È importante fare rete con gli attori che del territorio ne promuovono lo sviluppo. È un progetto ambizioso. Noi di Paganica abbiamo iniziato e abbiamo quasi finito il nostro tratto. Dopodiché ci mettiamo a disposizione delle altre circoscrizioni, a Sergi e Bazzano, per poter realizzare questo nostro progetto. La denominazione del santuario della Madonna d'Appari tra origine e dall'apparizione dell'immagine sacra della Madonna, avvenuta a Paganica nel XV secolo. Un patrimonio naturalistico e architettonico di pregio, ha affermato l'assessore al turismo del comune dell'Aquila, Lelio De Santis. Questa è una prova di come ogni iniziativa, ogni attività, soprattutto in materia turistica, richiede, perché i risultati vengano, di fare rete, di fare squadra e mettere tutti i soggetti interessati, vocati, insieme. Il comune deve svolgere questo ruolo di promozione e di coordinamento. Grazie. 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 Grazie.